Purtroppo i ladri non vanno in vacanza, anzi in vacanza fanno gli straordinari e per loro infatti il momento lavorativo migliore. Per evitare il più possibile di visite sgradite bisogna in primis evitare di far sapere se si sta partendo o si è già partiti, ma anche controllare il funzionamento del sistema dell'allarme, lasciare accesa una luce o la radio per mostrare che la casa è abitata e chiedere ad un amico di controllare periodicamente l'abitazione e di prelevare con frequenza la corrispondenza che potrebbe accumularsi nella casella condominiale. Questi sono solamente alcuni dei suggerimenti degli esperti di sicurezza per proteggere al meglio la propria abitazione durante le vacanze estive. Con la stagione estiva e con l'abbandono massivo delle case, purtroppo in Italia c'è ancora questa abitudine di fare tutte le ferie ad agosto con una serie di problematiche che poi sono anche legate alle qualità delle ferie stesse, si apre una parentesi che è quella relativa ai furti degli appartamenti. Assolutamente è importante non far capire dove si è, per cui evitare per esempio di postare sui social network le indicazioni dove si è perché chiaramente se qualcuno è malintenzionato e sa che una persona è all'estero è chiaro che quell'appartamento è attenzionabile e quindi si può fare una visita dopo alcune ispezioni. Chiaramente chiedere, creare delle sinergie con gli abitanti dello stesso palazzo, della zona, è importantissimo a questo punto di vista che alle forze dell'ordine hanno segnalazioni, per esempio se si vedono le persone che non sono nel quartiere, che si aggirano, controllano le abitazioni, è importante segnalare alle forze dell'ordine questa presenza sconosciuta. Può essere anche un parente di qualcuno che abita in quella zona e che magari è venuto a passare vacanze, però non sapendo è meglio dare questo tipo di indicazioni. Dopodiché per quanto riguarda i luoghi di vacanza, Google Maps ci viene in aiuto perché ovunque nel mondo se noi prenotiamo una location possiamo verificare tramite Google Maps l'applicazione stradale se corrispondono le immagini che ci sono su internet all'effettiva realtà. Cosa importante, se prenotate online, fate le foto delle schermate e conservate perché qualora i servizi resi non corrispondono a quelli che erano proposti nelle pagine è possibile chiedere risarcimento e ricordiamo che i risarcimento vanno chiesti entro 20 giorni dal ritorno alle vacanze.